La sgazzatina non vede più, eh? No, Flame, se vuoi mandarmi un millino, magari stasera ciò, facciamo pure il SART condiviso. Il cerbro fa parte di quella sorta di cloata di intellettualità. Il lavoro vero, manuale. Lavorare. Lavorare prima tantissimo le gambe e fate che le gambe accompagnino i colpi. Se le gambe non accompagnano i colpi è tutto inutile, perciò muovete le gambe, accompagnate i colpi con le gambe, con le rotazioni delle gambe, con lo spostamento avanti, indietro, a seconda di come volete colpire. È paradisiaco. C'hai capito? Paradisiaco! Ma è paradisiaco di chi? Certo, senti... Che dovevo dire nella live che non ho fatto, frate? Che il cerbero ha fatto un'altra live. Ho detto adesso mi metto, attacco la live, mi vedo quello che hanno detto e rispondo. Ma poi ho detto, no, meglio non fare le cose d'impulso, eh? Alla fine non faccio un cazzo, perché mi sono lotti i coglioni, frate, perché... Sicuramente avranno visto il TikTok del porco Dio, e non avranno... Non me ne trega un cazzo, questo è quello che voglio. Mi sono un po'... Sono un po' scassato, frate, a questa situazione. Sinceramente. Sinceramente. Ah, frate! Ma che stai a fa'?! Ricordate che i squali stanno arrivà'?! Hello! Closhaars! E benvenuti in questa nuova trasmissione! Grazie Marco! Benvenuti! No, Chitano mi ha salvato la vita! Come se stia a essere... Le biciclette, le biciclette... Oggi è stata una giornata infernale, non mi avete visto alle 15, perché ho avuto un po' di casini con Asia, febbre altissime, stavo da sola a casa, quindi sono dovuto stare con lei, tutto a posto, però vabbè, i drammi della genitorialità, e poi sono arrivato in studio, un po' di fretta, ho messo la bici dentro, l'ho appoggiata al muro... L'ho vista al volo, si capottava... È caduta proprio pianissimo, così... Beh... Ogni volta che sta bici cade, succede un danno, già mi si è rotto un freno, quindi ho solo un freno, la cadera si è completamente scappellata, si è incastrata malissimo, per fortuna è arrivato un uomo vero, l'unico vero uomo qui dentro... Avevo l'aiuto di un cacciavite, ma perché ritorna sempre gialla? Cioè ho l'aiuto di un cacciavite, Davide con la mano, certo se stava breve... Eh, mi sono pure aperto la mano, infatti Marco tipo, non lo so, cacciatore fa... Ma te sei ferito? C'era il sangue, ha sentito l'odore del plasma... Sul grasso non si vedeva, raga, non lo so com'è possibile, però mi è già capitato... Perché era tutto nero, aveva tutte le mani nere... Il mic è la Simo, comunque c'è uno sketch bellissimo su un supereroe dei Monty Python che aggiustava le biciclette, era molto più importante dei Superman e tanti altri, perché lui aggiustava le bici anche a Superman, era lì lo sketch... È un potere fondamentale ragazzi, assolutamente... Detto questo, detto questo, finalmente è uscito il video di Anima, non quello su Matteo Saba, quello uscirà venerdì, ha messo già la premiere prima della nostra live appositamente, quindi venerdì alle 15 vedremo il video... Beh, questo qua di che parla? L'operazione... Ah... Finalmente il video dell'operazione, vediamo un attimo le spiegazioni, eccetera... Che altro sì, sui punti legati al placement, sarei curioso di sentire... Esatto, esatto, esatto... Non quelli correlati alle classiche frasi che sono andate a dire sull'estetica in generale legata alla chirurgia, quello là sticazzi francamente... Esatto, esatto... Bella, raga! Che dici? E non fate più la transizione a YouTube? Che senso? Non ho capito Nova, che intendi? Su YouTube ci siamo ogni venerdì a mezzogiorno, fissa, e a 2000 sub su YouTube inseriremo la seconda puntata di Mezzogiorno di Fuoco, il nome del format, e poi live speciali, anche per i Boscar stiamo organizzando delle cose fighe, sia per Twitch che per YouTube. E poi vabbè, appunto, oggi pure è un casino a livello d'organizzazione per Bergamo, per i Boscar, ma ci siamo, ci siamo, e stiamo lavorando sodo, stanno uscendo fuori delle bombe a mano, veramente. I biglietti a giorni, i biglietti a giorni disponibili, sbrigatevi, perché sennò finisce male come al solito. Vabbè, poi Nova, se aggiungi, non ho capito bene una domanda. In relazione ad Anima, dicevo, venerdì, quindi alle 15 vedremo il video, e alle 21 verrà ospite, per rispondere alle nostre domande sulla questione Sava, la questione Cecena, e ci sarà anche Germano. Azz! Quindi, top live. Detto ciò, io devo blastare una persona. Chi? Eh, devo, devo, devo. Perché non c'era quello il wifi. Vi ricordate questo ragazzo? No. Ah! Parla italiano, dice qualcosa. Ah, quello là che faceva le parole tradutotte, tipo come se faceva una volta, come quando c'era mio nonno, no? Bravo. Ok. Esatto. Parla italiano. Gobelino. È la versione originale. Bravo. Ma qui urges bugiardation. A noi ce l'ha insegnato Richard. È vero, è vero. Infatti con quello me l'ho confuso. Grazie, Wilmot. Gobelino. Sai che esiste una parola italiana per indicare il goblin? Ebbene, in italiano il goblin si chiama koboldo. Non è vero! È un'altra razza! Greve. Questa è una disinformazione allucinante. Sarebbe come dire, vabbè, giapponese, cinese. I gobelini. Ma come va a non sapere sta cosa? È vero, è vero, è vero. Marco, tu che sei un esperto di D&D. Ma lo sai che mi aveva preso un attimo, me l'ho sbagliato pure, ma me l'hai detto tu al inizio live. Allora, il koboldo è una specie di gobelino in miniatura, ma è un'altra razza. Adesso lo facciamo vedere, facciamo divulgazione seria. Una specie di Neanderthal. Basta conoscere intanto Richard per sapere che sono due cose diverse per il famoso discorso. È uno spiritello! È uno spiritello! Gobelini e koboldi. Che non c'entra un cazzo. È molto diversa. È una lucertola, te come viene raffigurata. Vabbè, uno potrebbe dire... No, questo che è... Ma che è? Era l'incubo. Questo è un quadro, esatto. Il quadro... L'incubo, mi pare, sì. Grazie, Rappi. È la pubblicità del Brioschi. Cioè, quando mani... Ah, no, questo è... Che sta sul ventre della donna, vestita del bianco. L'incubo, mi pare, si chiamava. L'incubus. L'incubus. Sì, incubo. Che paura. Quindi, proprio la disinformazione assoluta. La paralisi del sonno sarebbe. Tipo quella roba all'anno. Sì, quella roba. Sì, ecco, vedi. Poi sono un po'... Alle volte li mischiano, eh. Bill il koboldo. Bill il koboldo, vedi. Anche a Magic. Anche a Magic. C'era il mazzo koboldi. Ma che disegni sono? Vabbè, sono le primissime edizioni. Vabbè, io non vorrei fare battute, però veramente, guarda. Sembrava una pubblicità anni Ottanta puramente italiana, Davide. Tipo... Assunto Michael Zena. Torniamo? Vabbè, lasciamo perdere. A me quel cartone di dinosauri mi ricordavo. Ho capito, ho capito. Asciamo perdere. C'era il mazzo koboldi, mi ricordo, in tipo 1. E i goblin, invece, vabbè, riconoscete tutti, ma... Il WZ ha bisogno di aiuto. Goblin, koboldi, Magic. Vediamo proprio la differenza. Oddio. Eh, però, se ti scrivi insieme... Eh, no, magari un mazzo combinato, però... Cioè, questo è un goblin, regà. Quante persone che ziggie vorrei fare un mazzo combinato. Un mazzo combinato... Vabbè, comunque... Non ti permettere mai più di fischiare le razze, eh. Ah, vabbè, no, ma quello non si può più fare, no? Beh, sui siti di porno, sì. Ma sotto la consensualità altrui o meno? Ma tenendo conto della consensualità altrui o meno? Comunque, sulle nuove edizioni di D&D, se vi interessa, stanno muovendo per levarle l'idea dei razze. Vogliono mettere etnia? Etnia, sì. Etnie su D&D. Dentro D&D, sì. Allora, ma è una cazzata, scusa. Io sono rimasto a 3.5, quindi sono ignorante. Qua si parla della 5.5. È rilevante. E chi non scarica la patch... Come le chiami, le chiami. Tipo tu ti riunisci insieme ai tuoi amici attorno a un tavolo e vi fate i cazzi vostri. Se voi in testa non vi siete scaricati la patch, cioè tipo voi che patch avete di D&D in testa? Eh no, ma cambieri manuali, cambieri manuali. Ah, quindi uno si compra il manuale. Anni 2000 si parla. Stanno levando pure tutto ciò che ha a che vedere con il controllo della genetica a livello di magia, che però è magia, però per loro è comunque una cosa brutta. Tipo epigenetica. Si dicono è comunque eugenetica, però sono mind flyer sui nani oscuri del... Non c'è troppo senso. O gli elfi oscuri pure. Gli elfi oscuri pure, sì sì sì. I nani oscuri non so se esistono. Sì sì, i duerga. Esiste tutto ormai. Esiste tutto, sì sì. Sì sì. Perché non va più bene chiamarlo razza? Vogliono abolire il termine. Perché dicono, molti criticano D&D, ma i stessi che giocano comunque. È razzista dire razza ad un'etnia della razza umana. Quindi un elfo è un'etnia diversa, quindi un elfo potrebbe fare un figlio con un nano, che verrebbe metà elfo e metà nano. Elf nano? È l'unica cosa che non è mai capitata, lo sai. Però si accoppiano. Esistono, tipo il mezzorco. Sì sì, il mezzelfo. È il risultato di un orco e un essere umano. Sì sì. Il mezzelfo, stessa cosa. Poi c'è anche l'elfling. Può essere, come si chiamava? Sì, l'elfling però è una razza... A parte però. Sì sì sì. Ah sì. Ok. Ci stanno pure i mezzi, tipo i mezzi ogre. Ci stanno pure. I mezzi ogre, vabbè, ormai le specie sono in fine razza. Accoppiamenti un po' particolari. Però che sarebbero odiati o sarebbero amati dalle altre etnie? È di bene. È una guerra di razze, però la vedono come una cosa... Un elfo... All'aspetta, no? Ci sono quelli più razzisti, quelli meno razzisti. Quelli che non vogliono la commissione tra le specie. Chi sarebbe la minoranza? È brutto. Però regà, chi sarebbe la minoranza in D&D? Eh boh, dipende. Dipende dalla storia. Qual è la più grande minoranza? Fire on gli umani sulla maggioranza. Esiste pure il mezzo drago. Fresca. No, non sto affatto. È vero, sì sì. Non me ne frega un cazzo di queste cose. Non c'è niente da dire. Scusa, ci sono affascinante. Mi sto interrogato perché non conosco D&D, quindi voglio capire se c'è una minoranza in D&D. Mi sento se sto fermo. È incredibile. Un giorno ti porteremo dentro... No, ho qualche problema mentale. Baldur's Gate. Ma beh, hai giocato a Baldur's Gate, comunque. Eh? Hai giocato a Baldur's Gate? Sì, ma mi stavo proprio perdendo. Forse sono fatto, non lo so. Bascio, dopo due anni di YouTube vi vedo in live su Twitch. Vabbè, glielo l'ha fatto, dai. Insomma, è razzista, ma quindi razzista distinguere anche le varie razze di cane. Ma... Infatti, secondo me, è una puttanata. Però facessero quello che cazzo vogliono. Ragazzi, vi ricorda qualcosa questa clip? Ovvio. Non si preoccupare. Non si preoccupare. Non si preoccupare. Non si preoccupare. Ciao, signor. Siamo dal centro di disegno e prevenzione. E c'è stato un avvento, come potete sapere, in Europa. E' vergognoso che questi stranieri abbiano copiato il nostro amico. Eric, già lo sai. Eh sì. Ammazza, sì. Vergognoso. Tra l'altro è un freebooter potentissimo. Cioè, prende a piene mani da qualsiasi cosa. Andrew Tate, Greed Guys e Neil Sutek. Allora, almeno loro lo ammettono, una Greedy Guys. C'è proprio ragazzi avari, quindi proprio, se chiamano proprio, di nome di Bacch. Scrocconi, ovviamente, scrocconi. Sì, sì, sì. Ciccone? No, sì, scrocconi. Questo è solo precauzionario, ma se hai un po' piccola piccola, poi possiamo portarlo al lab? Grazie a Exsing. Non importa il problema. Il più piccola, il meglio la testa, po'. Sì, è ok. Ora, dico un po' di ricetta originale, solo due minuti. Grazie, allora abbiamo due sacchi. Grazie molto. Beh, comunque, se posso dire. Sei un buon wingman. Questo è quel che succede pure quando si copia male, perché ci stanno certe teste di cazzo che io ho visto in passato, che magari prendevano una cosa che vedevano da qualcun altro su YouTube e spesso erano prank, però magari li andavano a prendere da una lore che quello stesso YouTuber si era costruito e quindi paradossalmente, per quanto poteva essere greve, era safe perché magari era messo all'interno di un contesto, no? Quindi immaginate come magari questi qua sono i scrocconi e quindi magari non è che viene visto come così scandaloso andarlo a fare un certo tipo, perché magari si sa che dopo lo vanno a dire. Esempio, supponiamo che ora arriva il cancretto di YouTube del 2018 che vuole fare il prank del cavolo fake e magari lo fa così, tipo al McDonald's andando andà fastidio e magari poi andandosene via senza tornare indietro, eccetera, eccetera, eccetera. e quindi sarebbe criticabile sotto un sacco di punti di vista. Secondo me in questo caso è successa una cosa simile ma non così grave, che cazzo ne so? Per una parabola Stanna di che sono gli ispettori della qualità del pollo E quindi devo datemi il miglior pollo che avete e vi daremo i risultati in 6 settimane. Ma loro secondo me ci stanno a credere o gli Asano appoggia un po' nel dubbio? Ma guarda, c'è anche il dubbio che sia fake della butto là, però una piccola percentuale, però mi sembra sincero. Sì, diciamo che questo ragazzo sembra sorpreso, un po' intimorito potrebbe, potrebbe. Sì, non avevo ben capito. È plausibile che sia vero, per carità. E poi stanno a KFC. Hai rubato una letta del pollo, dai. Non è neanche una cosa così replicabile, alla fine è più un video comico. Non è che dici, lo faccio pure io, ma a chi viene in mente di farlo pure lui. Giusto, uno che anch'esso fa dei video. Cioè devi fare un contenuto, certo. Però la gente normale... No, vabbè, ma come dicevano un'altra volta, costa più alla tuta. Ma sì. Diamo gli risultati. Ok, allora ragazzi, è successa una cosa curiosa. In quel di Sanremo. E tanto è sempre così. Però che riguarda il nostro mondo. Sta accadendo ora. Allora, c'è uno streamer. Qualcuno me l'ha definito un epigono di Dona Lee. Quindi andiamo bene. Curioso. Chiamato Luis Kent. Chiama Maiala, Veronica Maia a casa Sanremo e lo sbattono fuori. Luis Kent. Proprio come il filosofo... Sarà un uomo di alta cultura. E il Kant farà tipo la critica della ragione. E il Kent che ci meridiamo, ecco quello. Oppure Kent, tipo Clark Kent. Ma eccola E, Kent. Eh, lo so, magari si è sbagliato. Questo è Kant come il filosofo. E Luis come l'altro filosofo. Ah, beh, certo. Dove l'ho vista. Mi ricordo, una mattina può essere. Vedevo le trasmissioni, eh. Includere sotto lineatura. X 15. Che ci faceva in questo posto questa persona? Che era magari pass stampa. A casa Sanremo. Ma quindi è un giornalista, è una persona rispettabile. O Sam Bugato o pass stampa. Sam Bugato, tipo social boom e bosca. Diciamo che dopo... Solo per far casino. Ovviamente io non lo seguo, non lo conosco lui. Però dopo delle donazioni faranno intendere quello. Tipo non gli hanno controllato il pass, una cosa del genere. Comunque prenderà una brutta piega perché a sicuro ti si incazza, eh. Calati nella parte. Da ora sei per un tv inviato speciale dal Sud America. Duro, 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 duro. E vedi, c'ha sti meme qui da Donali, tipo duro, stream, dura. Un surrogato perché mo' non c'è la fonte principale, quindi bisogna sfogarsi da qualcun altro. Meno duro, però. Duro, 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 duro. Eh lo so, lo so, infatti, infatti. Direttamente dal Sud America, ragazzi. Ovviamente ho imparato la lingua in poco tempo, eh. Per venire in Italia... Sì, devo fare di sempre. Per venire... Allora, sono venuto in Italia. Cioè, ho imparlato... Ho imparato veloce la lingua, eh. Questo vent'ero ti fa tutto, no. Guardate un pochetto, guardate un po' però. Bella! Che ne dici, Marco? Mamma mia. Top. Quanto costa? Eh, non so. Sinceramente. Prossima videocamera per il Cerbero. Mo se si avvicina un po' meglio, vediamo. Eh, mi sa che è un po' hobby. Quando farò UF, ragazzi? Una Sony. Sono proprio... Sì, una Sony, ma... Sta a livelli così costosi che manca la conoscono. 15k, addirittura. 40k, 140 euro. Ok. Prepariamoci il content quando lo cacceranno. Ogni anno o peggio? Ogni anno o peggio? Sì, è un anno o peggio. Sì, è un anno o peggio. Ciao, non è solo. Veronica? Sì. Ah, ecco, vedi. Io mi ricordo di te, perché ti vedevo ogni tanto di mattina, giusto? Perché sono di... Aspetta, che presentazione? Come si chiama il programma, ragazzi? Ma che cringe! Oddio mio, è stato a salire il brividino. No, vabbè, perché è al... Vabbè, asciò a peggio. Madonna mio. No, The Office, a livello dei cringe, qua. Oh, ma di mattina, giusto? Sembra la checchia dell'Undini. Sì. Aspetta, che presentazione? Come si chiama il programma, ragazzi? Ma non lo ricordo neanch'io. Non voluto. È Veronica, Veronica, famosissima. Veronica, forse, Veronica. È Veronica Maiala, Veronica Maiala. Vabbè, chiudi. No, no, Maiala, no, scusi, no, no. Non vuole di dire. No, 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 no. No, non volevo inform... Loro mi hanno scritto, io non lo so, sono del Perù, io non... Scusami. No, no, no. Sì, siamo in replica, Tom. No, regà. Non l'ho fatto apposta. Vabbè, ma è del Perù. Ah, vedi? Sta a chiamare la sicurezza. Ha detto lui. Sì, è del Perù. Vabbè, è del Perù. Eh. E lui l'ha detto. Eh, ma sono del Perù. E che giustificazione è? Eh, beh, giusto. Che cosa significa? È del Perù. È del Perù. Sono giapponese. Esatto. No, ma poi ci sarà anche... Ci sarà la più grande argomentazione degli streamer IRL... Esatto. Gli streamer IRL molesti. Sto lavorando. In Perù come si dice Magliara? Ferra. No, regà. Non l'ho fatto apposta. Ferra che non si sente l'urlo. Grazie, Mario. No, regà. Ferra è tipo... Torra è puttana. Non l'ho fatto apposta, regà. Come sicurezza? Non l'ho fatto apposta, regà. No, ma perché... Mi hanno scritto, scusami. No, no, no. No, è che mi hanno scritto loro, scusami. No, però non toccare il telefono, caro. Io sto lavorando, non è che... La frase tipica... A perra è cagna, è vero, perché... Sto lavorando. Amore e Sperros era il film di... Come cazzo di Gnardito. Sperros, sì. Grazie, schinitù. Io... Eh, sì. Eh, basta che non mi tocchi l'attrezzo, io sto lavorando. Ma io non ti tocco l'attrezzo. Allora, ascoltami. L'attrezzo. Basta che non mi tocchi l'attrezzo. Mamma mia. Io sto lavorando, facciamo il conteggio, eh. Tu conosci attrezzo o un conosce maiano? Questo è il primo, già l'ha detto, mi sono perso. Due, questo... Due, eh? Counter due? Vuoi farlo tu, Marco? Minimo due, vai. Va, vai, metti il testo, va, che è importante. Sì, sì. Secondo me... Ah, previsioni. Dieci, dico io. Secondo voi? Sei. Sei? E Giallù? Non lo so, sì. Sta lavorando, conosce attrezzo, conosce tante altre parole, parla molto bene, conosce maiala, non lo so, direi un venti. Venti volte, ok. Marco? Ehm, oddio, pure voi in chat. Quindici, ok, vediamo. Quando ho premuto due, c'era ascolto. Sette, dice Fede Managioia, vediamo, vediamo chi vince un bel premio. Sto lavorando qua, non è che sono... Io... Eh, sì. Eh, basta che non mi toghi l'attrezzo, io sto lavorando. Ma io non ti tocco l'attrezzo. Questo è il tre, perché ho mandato indietro. Ok. Qua è tre. Quanti tre. Ti spiego, ti spiego. Io sono del... Eh, io lavoro, ragazzi, è che devo fare il tre di... Voi che mi scrivete certe cose, ragazzi. È il caso di Biagio, quello. Il porco che fa... Andai indietro, Nat. Ah, il tre di, ragazzi. Ah, no, no. Ma chi? Questo qua, pensavo. Ah. Questo camagnetta bianca. Però... No, no. Ma è cosa di Pantellas? No. E Jacopo... No, l'altro di Pantellas. No, non credo. Quell'altro vicino è Snitex. Ma troviamo tutte persone. Esaplisci, bravo. Siete certe cose, ragazzi. Il porco che fa... Ragazzi, ma non... Sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. No, vi spiego, vi spiego. Io sono del Perù, no? Sto facendo una trasmissione. Con delle persone che mi scrivono. Quindi, aspetta, ti spiego, ti spiego, ti spiego. È un lavoro questo, eh. Non volevo offendere nessuno. Cinque. No, 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 non toccare, non posso spegnere, eh. Scusi, esco, esco... Eh? Ti è a fare quel che vuoi. Non ho capito. Ti è a fare quel che vuoi. No, 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 non posso spegnere. Non posso spegnere, eh, mi dispiace, signori. Eh, se vi ho mancato di rispetto. In qualche modo chiedo scusa, però... Non posso spegnere. Un po' chissicamente. Rischio un'esplosione. Non posso spegnere. Lei non capisce, non capisce cosa potrebbe succedere se spegno. Esatto, ma lo sto dicendo per tutti noi. Riccardo 1901. Andiamo fuori, ma è... Diggi a Veronica di uscire i piedini e di nuovo... No, no, no. Ragazzi, che sono... Non ne ho capito. Hai visto quello che fa? Oddio, guarda... Guarda quello a destra che fa quando senti i piedini. Fa una cosa che la faccia... Esatto. Dove gli ha caricato la stretta? Secondo me l'ha stretto ancora di più quando ha sentito i piedini. Cioè, ho sto presentimento. Guarda la faccia. No, guardando la faccia. È i piedini di Veronica, grazie. Grazie. No, no, sono i ragazzi che sono... Non è colpa mia, non è colpa mia. Andietro. Di uscire i piedini e di nuovo... No, 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 sono i ragazzi che sono... Ha fatto veramente, guarda. Ha fatto un champagne. Chiedo scusa, chiedo scusa, eh. Perché c'è la gente purtroppo che... Sì, sì, vado fuori, vado fuori. Da... Da tro sotto lineatura 22. No, non posso staccare, scusatemi. Security di poco design non controllano i passi all'entrata. No, 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 non è quello, non è quello. Oddio. Io sto cercando di fare il mio lavoro nel Ciro, tranquillo, eh. Anche loro stanno lavorando, quindi rispettiamoli, ragazzi. Ognuno lavora, cercherà di cavarsi... Questo non vale, ognuno lavora, però. Ognuno lavora, non vale. No, secondo me è il contrario. No, ognuno lavora. No, secondo me ognuno lavora vale, perché vale pure per lui, ma non loro stanno lavorando. Quindi sette. No, però a me ha detto stiamo lavorando. Esatto. Si è messo pure lui. Allora vale pure quello perché ha detto anche loro stanno lavorando. Anche loro ha detto... Implicitamente vuol dire che... Allora sì, anche lui, è vero. Se ha detto anche... Sì. Non riuscivo a spiegarlo, ma era questo. Giusto, giusto. Allora valgono tutti. Assolutamente sì, siamo a otto. Anche implici da lui. Sì, sì, poi ricominciamo il video per contarli, certo. Ognuno lavora, cercherà di cavarsela come può, no? E la vita è quella? Che cazzo! E la vita. Ma che frase delle circostanze è? La vita è cavarsela come può. E la vita, è... E' vero. Ognuno lavora. Per carità. Questi stanno a dire, facci vedere il passo, non puoi dire queste cose agli ospiti. E' la vita. E' la vita. Eh, lo so, ma anche io... Guardi come parli perché te lo spacco il telefono. Dai, scendi. Che re... Occhio, duro, duro. Occhio a come parli che te lo spacco il telefono, greve. Fai il duro, duro? Io l'avrò bene. Eh, lo so, ma anche io... Guardi come parli perché te lo spacco il telefono. Dai, scendi. No, no, no. Scendi giù. Ho capito che scendo giù, però... L'upara verticale. X 15. Ma cosa volete, Taroni? Ma cosa volete, Taroni? Lasciate stare qui, schiettura, dura. Calma, calma, eh. Oh, ma che è quello di... Si è specchiato. Ok, tutto, ma esagerato per una maiala, ma perché se sentite bene chiedono il pass? Evidentemente non lo ha. Si è rambucato. Eh, perché quando lo fermano gli fanno pass e lui, no, 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 ma mo ti spiego, ti spiego, ti spiego. Il pass. Non ha il pass. Diciamo che l'hanno cioccato. Ok, adesso li spiego. Non spegni. Eh, posso mutare, se volete, mutare. Ti ho detto di spegnere, non di mutare! Muto. E che te ne puoi la borsa. Però non posso staccare la trasmissione per voi, perché è un lavoro. Io non posso saccare. Lo metti nella borsa. Oh, oh, magari muto che è diverso. Eh, che vuol dire? Muto che è diverso, appunto. Lo muti e lo metti nella borsa, come te l'hanno detto. Alla Ipa la c'è accesa. 4, sottolineatura 22, X15. È il vostro collega all'ingresso che fa entrare cane e porci NKN controlla Ipa. Siete con questo? Io non faccio niente, sono le persone che sono... Siete con questo? Siete con questo. Sì, sì. Cazzo, c'è che sta roterrù a un po' Sta avvelenato, sta avvelenato. È un'area grigia se gli puoi menare o meno, capito? Secondo me, sì, sì. Sei te con questo? Io non faccio niente, sono le persone che donano i soldi e quindi fanno partire la cassa. Sì, ma devi spendere un po' il telefono. Eh, ma non posso spegnere la trasmissione. Ho capito, a me devi spegnere la trasmissione. Allora, faccio così, guardi. Metto, metto, metto la borsa. Oppure in quanto di là, lo faccio fino alla borsa. Mi ha il tuo favore, non lascio mai più. Vudo se vuoi, grazie, 36. Vabbè, secondo me, neanche se deve impuntare la guardia per fargli spegnere, accompagnalo fuori dall'edificio e poi se la vede lui. Sì, sì, sì. Forse non possono buttarlo fuori? Lasciate stare anche dei fattori. Senza il passo. Sono ancora Angie. Ah, così finisce. Finisce così. Forse è boh. Che roba corto, è stato costretto a staccare. Per certi anni poi fa foto, backstage, se non si è autorizzato, quindi... Beh, non so come funziona. No, ma scrivite, no. Prima non si sono arrabbiati che stava in diretta, quando pure stava a parlare con... Perché secondo me pensavano che era autorizzato, il fatto che non c'era il password, che non era autorizzato. Non so come funziona questa specifica di Sanremo, però solitamente il pass stampa serve per quello. Poi in determinate cose tu hai anche il veto. Il veto? Tipo quando ci sono, che ne so, le proiezioni stampa per i film, tu magari non ne puoi parlare se c'è, che ne so, un arco di tempo in cui lo puoi vedere, ma non puoi ovviamente far vedere immagini meno che mai, ma neanche parlarne. Ah, sì, sì. Nelle anteprime succede. Qua non credo, però sì, come dice Marco, magari autorizzazione di stampa. Eh sì, il fatto che non era la stampa. Che può fare una copertura, esatto, all'evento, magari con interviste e cose del genere. Comunque, sicurezza che hanno, si accorgono degli infiltrati e fanno delle cazzate, sì, infatti. Nove ore. Nove, nove, nove. Non ce n'è sfuggito qualcuno. No, può essere, può essere. Vabbè, avevo detto dieci, ma l'avevo già visto il video, ovviamente non l'avevo contato, quindi vabbè, non valgo. Se fosse successo a voi, ai Bosca, ormai è successo, solo che noi li abbiamo fatti bere. Grazie mille, rappi, rappi, grazie. L'abbiamo fatti bere, dici, eh? L'abbiamo fatto molto male. Eh, lo so, perché noi siamo più buoni, non è che andiamo lì a... Quest'anno però non saremo buoni, considerando... Quest'anno chi non ha il biglietto non entra, ragazzi. Esatto, esatto. Ma di chi stai a parlare? Io pensavo dei Carabinieri, non so perché. Stiamo parlando del prossimo party, no? Perché sono venuti tutte e due volte, Carabinieri, ma non stavate dire. Stiamo parlando del prossimo party, del Bosca, ma in generale ci sarà una sicurezza devastante, proprio. Tipo quella che avete visto l'altro giorno. Proprio placcaggi. Allora, la mia operazione. Vlog in ospedale. Finalmente Anima spiegherà tutto. Nel minimo dettaglio. Avete capito, ragazzi? Su questa grande ADV, non ADV. Vediamo un tanto una descrizione per curiosità. Per info gratuite sull'operazione, premi questo link. Ammazza, 36 sostendenze. Per parlare direttamente su WhatsApp con la clinica? Vabbè, sì. Ovviamente è una sponsorizzazione, pure Prozis, che alla fine non è mai male. Vabbè, mi sembra, insomma, con link diretto più sponsorizzazione così. Sì, comunque è un'operazione. Vabbè, ovviamente non c'è nulla di male. Un'operazione confettata. No, sì, sì. Un'operazione chirurgica. Confettata. Entrambe le cose. Entrambe le cose. Ciao amici. Sì, oggi parto per la Turchia. Ma prima dobbiamo andare... Eeeeee... Lega Transition. No, ma che taglio. Con lenzuolino. Gli faceva Hitchcock negli anni 40, questo. Però, no, no, no. Però fanno sempre scena. No, 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 c'è sta. Vero, è vero. Oggi parto per la Turchia. Ma prima dobbiamo andare al centro commerciale a comprare qualche vestito caldo, perché sì, sarò anche vestito super bene, tiè. Però un'intera tuta e una giacca me la devo per falsa comprare, anche perché sono arrivato a metà settembre a Dubai, che faceva caldissimo, non ho messo niente in valigia e venivo già da un'estate tutta in viaggio in Venezuela. E quindi... Benvenuto, Sasha! C'è scritto, però, che mantiene inserzioni il video. C'è scritto all'inizio, vero? Vado. Ho visto qualcosa, infatti, aspetta. Quella cosa, però, che compare da YouTube, dico. Ciao, amici! Un'altra volta. No, no, volevo vedere... Dov'è che l'hai visto? Era a pannello? Sto chiedendo, non c'è il classico pannello che dice questo video contiene quello di YouTube. No, ho visto una scritta, ma mi sa che erano i sottotitoli. Eccolo là, ma prima... Ok, vabbè. Eh, no, io non l'ho visto, chiedevo se voi l'aveva detto. Ah, ok. C'è un vento che tra poco gli spazza via. Dovevo arrivare io a Dubai per portare una tempesta e un tornado. Che cazzo sta succedendo? Questo è per forza un segnale dal cielo. Vabbè, sì, ma cazzo meno, l'importante è buttarsi sempre all'avventura. E tu che ci fai qua? Io vengo con te. In che senso? Questa è la famosa ragazza tagliata in coda al video. La ragazza misteriosa. La ragazza misteriosa. È venerdì che chiederemo chiarimenti anche su questo. Non so se hai sentito tu. No. Venerdì alle 15 esce il video di Anima. No, alle 15, un po' prima delle 15, mi sa alle 13. Il video di Anima sul Cecenia Gate. Grazie. E alle 21 viene ospite lui. Alle 15? Alle 15 vediamo il video, alle 21 viene ospite. Dai, dai. Insieme a Germano. Sono curioso sul Cecenia Gate. A quello mi interessa molto. Ha proprio messo nel titolo tipo replica Matteo Saba. Chi lo sa. Grevissimo. Bene. In teoria questa è la ragazza dei fratelli in Ergumenius. Finalmente ad Istambulamento. La ragazza di Anima che è il fratello di lei era coinvolto da quello che ci raccontò Saba. Era su Airbnb ma non pensa, oh fosse così bella. A parte che ci sono tipo 8 ascensori e poi semplicemente vai, decidi al piano in cui devi andare, dove andare al 44 di 48 e ti dice avvicinati al ascensore C. E in automatico ti porta su dicendo già al piano. Come si balla in Turchia? Mi ricordo che fanno qualche ballo strano bellissimo. Ed eccoci arrivati. Questa tower si chiama Simpas Queen. Abbiamo ovviamente la chiave perché per aprire è... Tra l'altro lei faceva l'agente immobiliare senza licenza secondo Saba. L'accusa di Saba. Vabbè, vedremo. Vabbè, ce ne frega un cazzo. È soltanto un one bedroom, ovvero una... Ah, qua parla. Ascoltiamolo. Già parte con l'imposizione delle mani così. Beh, bello. E appoggi? Ma alla fine, perché sono volato fino in Turchia? Bene. Sono venuto qua per fare un'operazione chirurgica. Questa operazione riguarda una lipos... Hai studiato qualcosa di linguaggio del corpo, ricordo male. Tipo l'imposizione delle mani così significava qualcosa. Tipo un santone. Così, sì, sì. Così era tipo un santone. Cioè tipo sto sputando verità. Ascoltatemi. Sì, secondo me è quando vuoi che stai disto a mandare un messaggio che devi sentire. Ah, è vero alla Tate. No, però non ho mai studiato niente tutto questo. Non lo so, mi ricordavo qualcosa. Ah, forse sai chi era? Sì, delle cose su Instagram. Sai chi era? Chi era? Blood Sparastoria. Ah, sì, lui aveva studiato queste cose, sì. Ecco perché. La 360. Allora, allora, no. Tendiamo... Allora, ascoltiamo molto bene, eh, che qui entriamo nello specifico. Come eliminare gli accumuli adiposi. Vediamo. L'operazione chirurgica. Questa operazione riguarda una liposcultura, la 360, che ovviamente per chi non sapesse riguarda, diciamo, la fascia addominale. In questo caso, nel mio caso, la parte dell'addome basso, quella dei fianchi e quella dei lombari, ovvero la parte bassa della schiena. Capisco che la chirurgia sia un argomento delicato e anche strettamente personale. Quindi perché alla fine ho deciso di operarmi? Bene, diciamo che dopo tre anni, quando ho deciso comunque di cambiare, di iniziare a crescere personalmente, tra le varie cose che ho deciso di rintraprendere erano appunto quelle di avere un bel fisico, quindi di allenarmi, fare palestra, seguire una dieta, ovviamente altalenante sicuramente in questi tre anni, perché comunque sono una persona che fa tantissime cose. È dietro tantissimi lavori. Quest'ultimo anno abbiamo viaggiato. Ci sono tantissimi video che dimostrano, diciamo, le mie condizioni fisiche, al di là delle foto che ho caricato su Instagram. E quindi diciamo che anche nella migliore condizione fisica che ho avuto, non riuscivo a togliere quest'ultima parte di pancetta bassa. Insomma, comunque tutta la fascia a 360 gradi, dove principalmente gli uomini accumulano il proprio grasso. Per molti mesi psicologicamente non sono stato per niente bene, perché ho pensato e ripensato a tutti i modi possibili per il quale io potessi raggiungere il risultato fisico che desiderassi. Se in questi ultimi anni ho comunque frequentato persone che andavano assiduamente in palestra, vedevo il loro fisico, avevo sempre in mente quello che desideravo vedere anche sul mio. E vedere che non riuscivo a raggiungere questo risultato mi provocava parecchio dispiacere e dolore. C'è chi mi ha fatto una dieta, c'è chi mi ha seguito come personal trainer, ho conosciuto un sacco di persone a cui ho chiesto consigli del perché io non riuscissi a togliere quest'ultima parte, alle quali a tutte facevo sempre la stessa domanda. E bene o male tutti, diciamo, mi davano all'incirca la stessa risposta che nel mio caso, e ripeto, nel mio caso, sicuramente dieci anni senza fare nulla, senza fare dieta e magari non mangiando bene, bene o male ho un canale YouTube e tutti possono sapere le challenge di cibo che facevo o che ero sempre in giro, nei miei contenuti non c'erano argomenti e tematiche legate alla palestra o allo sport. Quindi mi hanno detto sicuramente questi dieci anni di inattività hanno influito parecchio, però mi hanno anche detto che potrebbe essere una cosa genetica. Genetico, quando si parla di adipociti, vi sto parlando di cose che mi hanno detto loro, che ho anche ricercato su internet. Bravo, così ci piaci, anima. Cosa fossero gli adipociti. Ma adesso ci arriviamo. Comunque, per farvi capire che noi non siamo tutti uguali. Cioè, c'è chi geneticamente è predisposto ad averne più, come geneticamente c'è chi nasce sovrappeso, obeso, non siamo tutti uguali, appunto. Alcuni mi hanno anche detto che poteva essere magari un'infiammazione. Ho anche cambiato la mia dieta, ho fatto i test. Leggete la descrizione bene. Ah, ok, perfetto. Video in collaborazione con la clinica. DV non pagato. Ok, gifted, quindi. Quindi non ha pagato l'operazione. Ok, grazie. Vabbè, comunque era chiaro anche da quel posto, però giusta precisazione. Con cui io mi riferivo a proposito di questo, a questa cosa qui, che devi cliccare promozioni a pagamento anche solo se hai ricevuto dei beni. Quindi è anche un'operazione, in teoria. E quella lì, tu quando la clicchi, compare su un video, un bannerino e mi pare che c'è una monetizzazione diversa. Non c'è la monetizzazione. Ah, ok. È quello che mi chiedevo. Hai tempi che ricordo io, se tu includi su YouTube che c'hai un contenuto che hai preso dei soldi per quel video che è in placement, non te fa poi partire pubblicità. Almeno così era, ma non so se sei... Non lo fa quasi nessuno. No, ma ha fatto bene a non farlo, secondo me. Perché devi far scammare i soldi dalla monetizzazione del video tuo. Sì, sì. Cioè, allora non potremmo monetizzare nessuna live del Cerbero. Perché c'è sempre NordVPN. No, no, sono ricaricamente diverso. Come? Sono ricaricamente diverso. No, perché NordVPN ci paga per Twitch in effetti. E delle live, non è per i video ricaricati. Però se fosse su YouTube proprio? E se fosse una sponsorizzazione di YouTube? Non può, in teoria. No, in teoria devi cliccare lì. Non è che non sei monetizzato. C'è una monetizzazione diversa, mi pare. Però no, non mi ricordo bene. Però mi ricordo che c'è scritto che sei obbligato a cliccare in teoria. Va bene. Quindi mi dicevo... In teoria sì, ma non lo fa nessuno. Ah, ok, ok. Non lo sapevo io. 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 Se vede che allora lì c'è qualche legge... In Italia e in altri paesi non lo vedo molto. Se proprio vogliamo fare i pignoli... Non ha mai fatto nessuno. In Italia no. Se io conosca no. Mettiamola così. Magari sui video americani... Qualcuno l'ho visto, ma... Sui video americani dico. Ah, no, lì lo vedo quasi sempre. Allora si vede che lì c'è una legge. Video sponsorizzato. Ok, ok. Come qua in Italia, che ne so, devi scrivere semplicemente a DV... Su un post, magari lì sarà proprio obbligatorio. Se proprio posso essere più onesto, io non l'ho mai fatto e di conseguenza non l'ho mai criticato a chi non lo fa. Se proprio la devo mettere su un piano più onesto, però sì, è una cosa che c'è stata un bel po' di tempo. È vero, Breaking Italy. Io Breaking Italy mi pareva da l'ho letto là, forse. Però monetizza i video. Infatti la monetizzazione c'è, ma è minore, meno... Non so, non puoi gestirla tu, non so. Strano. Non so. Non l'ho mai... Te l'ho fatto una volta, ma non ho controllato neanche le monetizzazioni, era un ADV. In realtà ha senso, perché potrebbe entrare in conflitto con altri inserzionisti che rimedi a YouTube. Eh sì, forse il senso è per quello. C'è potrebbe essere... Vabbè, comunque. E generalmente hanno chiamato questo problema ADP localizzato, grasso bruno, insomma, lo hanno chiamato e definito in maniere diverse. Quindi alla fine mi hanno praticamente detto, e facendo anche le mie ricerche su internet, che quest'ultima parte, nel mio caso ripeto, era veramente, ma veramente, ma veramente difficile da togliere e che potevo risolvere questo problema con un piccolo intervento chirurgico, affinché non si ripresentasse questo problema, proprio anche legato a questi adipociti, non soltanto alla rimozione del grasso. Quindi, che cosa sono questi adipociti? Definizione trovata su internet, su Google anche, basta digitare tre parole per trovarlo. Sono cellule che servono da stoccaggio di energia che il tuo corpo utilizza quando ne ha bisogno. Si riempiono di grasso e ovviamente nel tempo si possono anche sgonfiare da questo grasso. Il problema sta che anche sgonfiandole, comunque queste cellule rimangono. Quindi dopo parecchie riflessioni, mesi... Una precisazione molto semplice. Via le cellule! No, se favo le vai le cellule direttamente. Eh, in realtà era la domanda dell'altra volta, nel senso, le puoi bruciare? Ci sono delle operazioni che, oltre alla liposuzione o liposcultura, associano a questa cosa. Perché infatti lui ha detto, anche per evitare che il problema si ripresenti poi in futuro. Diciamo, se non le elimini, come dicevo, tendenzialmente quella zona sarà meno portata a rieccumulare, però nel corso del tempo, se non sono eliminate, comunque possono proliferare lo stesso, comunque possono riconfiarsi. Vabbè, lui dice ovviamente sono sacche, diciamo, energetiche. Sì, il problema qual è? Che in realtà il grasso è la vera e propria scorta. Cioè, diciamo, per adattamento della specie ai tempi, noi ovviamente avevamo queste sacche di grasso in previsione delle carestie. Quindi proprio l'ultima spiaggia per non morire di fame. E infatti è molto difficile perdere peso nei punti... Marco, ma non ti arrabbiò quelli in chat, dai! No, non so, arrabbiò, non rompe, fa parla a Davide! Ma che cavolo? Ma che è successo? Che pare che poi interrompo io così. Continua, ho solo risposto a uno in chat. Vabbè, andiamo avanti. Ah no, sì, stavo dicendo no, beh, che me perdo, che sono cose lunghe. Che in realtà è l'ultima fonte energetica che utilizza il corpo. Quindi portare il corpo ad ossidare i grassi, specialmente il grasso ostinato presente in queste cellule, è molto molto difficile. Cioè, tendenzialmente si usa lo zucchero, gli zuccheri, come fonte energetica, poi gli amminoacidi, che sono, diciamo, le catene che compongono le proteine, e poi il grasso. Per questo che puoi dimagrire anche tanto, però in quelle zone è proprio l'ultimo step. Infatti l'altra volta vi dicevo, per eliminare magari un grasso depositato in una zona specifica, rischi di perdere tantissimo peso complessivamente. Questo è un po' il dramma. Ci penso, lo faccio, non lo faccio. Nella mia testa comunque continuava a rimanere il problema. Esatto, crio liposuzione, bravissimo. Ma gli adipociti si creano in base a quanto sei diventato grasso, cioè a quanto grasso hai accumulato nella tua vita? Anche. Che ti rimangono, una persona che raggiunge 300 chili e poi ritorna, c'ha ovviamente tanti adipociti, una persona che è sempre stata a 60 chili, no. Sì. Diciamo che ci sono delle predisposizioni... E ti rimangono a vita? Tendenzialmente sì, è difficile estinguerli anche perché si rigenerano facilmente, però quello che hai detto è il modo più facile per ottenere tanti lipociti. Ingrassare. Ingrassare soprattutto quando sei piccolo. Infatti se vedete magari dei bambini obesi un sovrappeso, se questa cosa viene portata avanti nel corso degli anni, anche da grandi poi possono avere problemi non tanto a perdere peso, ma a levare quel grasso depositato in zone specifici. È più difficile. Sì. E' un cane che si morde la coda, insomma. Sì. Si autoalimita. Esatto. Dicevi, una persona che è sempre in forma a normo peso... Eh, ma me lo so perso. Anche in caso dovesse ingrassare tanto, stoccarebbe il grasso per ipertrofia degli adipociti piuttosto che per iperplasia. Diciamo che più cresci è più difficile crearli. Cioè, solitamente si... Rigenerarli sì, però si creano soprattutto nei primi anni di vita. Nei primi 10-15 anni. Poi ovviamente dipende, anche perché magari non hai il tempo. Se cominci a mangiare come una bestia a 40 anni, poi magari dopo 10 anni mori. Il dispiacere e il dolore di non riuscirmi a vedere come desideravo. Non sono partito dal... Tre anni fa ho detto, mi vedo grasso, non ho voglia di rompermi le palle in palestra, e allora faccio l'operazione. È stato un susseguirsi di un lungo periodo che appunto non mi faceva stare bene, come già ho detto. Ripeto, nonostante fossi riuscito ad avere comunque un super fisico, cioè io ero completamente svenato, ragazzi, si è svenato sulle braccia, sulle spalle, avevo comunque un bel petto, le gambe, il grasso... Questo è vero, ma infatti l'avevo detto, se vedete, lui è molto molto magro, anche definito in diverse zone, no? Braccia, sulle spalle, avevo comunque un bel petto. Vedi? Bello. È molto asciutto, e poi la parte sotto, così. Quindi avrà una percentuale... Qua sicuramente la percentuale di grasso è bassa. Però... Dici pure su questo pezzo, c'aveva la pancetta magari là sotto. Sì, più che pancetta, diciamo sì, quell'ultima zona dell'addome... Ma è un dio greco, è meraviglioso. Avrai visto quando ha fatto vedere prima, che ne so, quando si piegava magari. Eh, che peccato. Ah, beh, questo è il suo... Cioè, è il suo obiettivo. Manco col binocolo, eppure comunque continuava a vedere questo problema addominale. Vedete che grasso qua non ce n'è, sulla spalla non ce n'è. Poi andate a vedere questa parte, cioè, se faccio questa cosa qua, raga, fa ridere. Cioè, se faccio così, ragazzi, ho un culo. Ragazzi, ho un culo. Cioè, ho un culo dietro, e ho un culo davanti. In qualche video su YouTube, c'è neanche la dimostrazione, cercavo anche di coprirmi con le mani la parte addominale. Cioè, io vi faccio anche un altro esempio, perché giustamente noi ci vediamo diversamente da come gli altri ci vedono. A me personalmente non piace neanche il mio naso. Io sono comunque andato a fare un'operazione al mio naso, perché me lo ruppi a calcio tantissimi, tessimi anni fa. Però comunque, non mi sono andato a modificare la gobba. Io questa gobba qua non ce l'avevo prima, però ho accettato di averla. E comunque, nonostante tutto, anche adesso, magari, potrei dire, beh, sicuramente con un naso dritto potrei piacermi di più, però non mi intacca. Non so, potrei scovare di più. Questo discorso mi piace, adesso è sincero. Dice, non è per ogni imperfezione che ho nel mio corpo, è per questa cosa specifica che mi mette in soggezione, almeno è una cosa che ci sta. Ma infatti, fino ad adesso il video, infatti sì, io non sto interrompendo perché non ho niente da dire. No, sì, sì, sì. Ma pure quello che dicevo nell'altra live, ovviamente, è proprio quello che lui ora sta scongiurando, cioè il dover ricorrere ovviamente sempre all'ichilurgia per qualsiasi cosa che può diventare un circolo vizioso. Se è una cosa lucida che tu dici, lo faccio per questa cosa in particolare, perché ha un significato particolare, non ci vedo nulla di male. Sì, si è stato specifico, poi in effetti, ripetendo quel video passato, magari c'aveva proprio quella tendenza a coprirsi la zona che lo metteva in imbarazzo. Magari per tanti anni si è portato dietro sta cosa, finalmente c'è la possibilità, chi sono io per giudicare, infatti non parlavo minimamente di questo, sono stato frainteso. No, ma infatti le critiche erano per il post, per l'ADV, che era stato dato in pasto ad un pubblico non in grado di cogliere le implicazioni di un'operazione del genere. Infatti, avevamo detto, speriamo che nel video vada nello specifico, poi certo, magari il video non lo vedranno tutti quelli che avranno visto l'ADV su Instagram, però va bene così, ci mancherebbe. Con l'operazione, il fatto che non riuscite a respirare bene. Comunque, tornando al discorso, le operazioni sono, cose serie e ci vuole anche una dose di coraggio molto grande. Ma per me il raggiungimento dell'obiettivo contava molto di più della paura e del periodo di recupero post-operazione. Se siete giovani, come ho sempre detto, non sottovalutate l'idea di prendere come abitudine fare sport, palestra, attività fisica, di mangiare bene, insomma, comunque di far rientrare queste cose nella vostra routine, diciamo, nella vostra fetta di giornata. Un po' come ti insegnano di rifare il letto. Anche rifare il letto sembra una stronzata, ma è una cosa che ti dà disciplina. Non sottovalutatela come ho fatto io per tanti anni. Io ovviamente, sempre più grande, sto pagando più duramente 10 anni di attività fisica davanti a un computer e a mangiare male. Io ovviamente in questo momento vi sto parlando della mia esperienza e della mia condizione fisica, che potrebbe essere totalmente diversa dalla vostra, ma comunque se doveste avere dei problemi, mi raccomando, consultate sempre prima il vostro medico. Bravo, anima, oh, meno male. Mi sta piacendo in questo video. Bravo, bravo, non c'è niente da obiettare. Bravo, bravo. Io l'avrei fatto contemporaneamente col post, però va benissimo. Stavo pensato di Peterson e secondo me però c'ha tre donne delle pulizie mentre lo dice. Ma ce la fai almeno a tenere casa pulita? Madonna, quest'odio ingiustificato di Marco per Jordan Peterson. Mi immagino una cena, lui è a casa. Non è vero, ma quali domestiche? No, vabbè, mi sono immaginato una cena e mi faceva ride. È una metafora. È una metafora. Lo dice a tutti, puoi parlare con Jordan Peterson. Tu lo rifai il letto. Ma io il letto mi ce li butto dentro. Ma pure io, infatti, io sono l'ultima persona. Ma entro pure dal lato opposto, da sotto. È tutto stra... Sì, il letto non lo rifaccio, devo dire, però a casa è abbastanza in ordine. Il letto è sempre tutto rigirato. È una metafora per dire non lasciarti andare, capisci? Ogni tanto bisogna pure prendersi cura di sé. Io sicuro stiamo sempre a discutere su Jordan Peterson, poi un giorno ne parleremo. Confronti in diretta con Jordan Peterson. Guarda, Crepaldi ha fatto un video di 40 minuti che non ho neanche aperto. Si chiama... Spiega tutto il pensiero di Jordan Peterson, almeno cerca di farlo. Quindi non lo so, se siete curiosi, e come Marco non parlate mezza parola di inglese, ma avete comunque un'opinione su Jordan Peterson. Questa è la follia. Ci sono i sottotitoli, Simone? Ma dove? Cosa hai visto i sottotitoli? Ma che vuoi dire? Non ci sono i sottotitoli? I sottotitoli, hai sottotitoli. Se lo tornai nel medioe. Io ho visto ore, 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 ore di contenuti, sottotitoli. Vabbè, dai, dei tre video biased contro, ma per cortesia. Piccola citazione a Giorgio? Certo, Davide. Capiamo. Io cito in continuazione Giorgio, è il mio anime preferente. Con quale faccia non lo stai dicendo. Mai visto. No, perché la gente vede citazioni di Giorgio ovunque. Sì, sì. Vabbè, hai detto ora, ora, ora. Citiamo spesso con Giorgio. Ma anche io mi accorgo che lo cito, e non è una cazzata. Lo cito, è l'aggezione che mo' appare Don Vito in chat. Su Giorgio avvengono un sacco di cose. Poi spuola Don Vito. Parlate di Giorgio senza sapere, mo' scrive. Ma Giggio, non sei Giggio. Ci sono due video sotto di tonalà. E Don Vito l'ho detto Giggio. Giggio. Topo Giggio, non capisce un cazzo di Giorgio. Per farvi spiegare quanto tutto sia una farsa, no? Una persona alla quale voglio bene in chat ha scritto che stiloso tu dubbi questo periodo, no? E magari è una persona che non apriva al Cerbero da due o tre giorni o magari una settimana e me vede oggi così. Ieri, vi ricordate ieri proprio esattamente ventiquattro ore fa come sono avvenuto in questo studio? Cioè tipo con la busta dell'immondizia ti ho detto sei sempre Don Vito mi sto avvenuto e sono tutto sudato, tutto... Ho detto Madonna Simo ma sto periodo stai proprio annichilito ma che te è successo? Cioè non mi ricordo. È proprio una recita. È tutto finto. È tutto proprio una cazzata. Don Giggio. Ma che cosa è una cazzata? Io stavo di te dopo Giggio. Sì, sì ma in senso buono io mi sto a divertire come non mai come non facevo da tanto tempo. Meno male. Voi mi sputo in mano se volete. Oggi era attuvento. Voi mi risputo in mano. Se poi ti faccio una stretta e lo fanno quando vuoi però fammi incendi. No, era solo un momento dove volevo. Sputami in bocca, sì. Eccolo! Ecco, veramente. Ma che c'entro io ma sei diventato come il bulo di Twitch Italia. No, che? Davide, a te sta via. Occhio a prendere i suoi vizi. Ma che a me? Ah, perché io sono a me, no. Ma che a me? Ho detto niente. Ho detto molto. Don Vito c'è cazzia. Don Vito c'ha ragione però perché se viene offeso ti ho citato come esperto di Giorgio se Don Vito viene offeso così sul personale secondo me è giusto che si arrabbi. Io mi ricordo che quando eravamo si è modificato se lo citavamo e qualcuno gli andava a dire qualcosa si arrabbiava. Sì, entrava su tutte le punze. Ah, vedi? C'entro io con la busta. Che busta? Ah! Bustar Sizz. Che busta? No, no, regà, veramente. Tu hai detto che avevi la busta eri brutto e ti hanno detto che sembravi Don Vito. Ah! Vito, io sto riportando che ieri sono venuto qua vestito tutto tipo ma non la busta limonizzata. Zuzzo? Ero tutto zuzzo. Tutto sudato con i capelli spiaccicati. Marco abbiamo uno spot gentilmente. per uscire da questo spot. Marco metti Marco metti lo spot Marco Sta pure Il bullismo non ti rende forte lo sport invece sì. Ed è questo il motivo. Tutto lo sport. Andiamo avanti, andiamo avanti. Un altro è già uscita la foto su Instagram dell'operazione nel caso ve la foste persa andatela a vedere. Ma è imperdibile! La foto dell'operazione. No! Che tava verdi. Aspetta un attimo no no aspetta un attimo Ma noi non ce la siamo persa però poco chiaro ma ok di perdono meno male la loro opinione Io Vito io ti voglio bene non sarò mai come quel bullo di White Half Bullo Half sono con te in questa battaglia Vito ricordatelo sempre E dove va Gianluca? Non mi interessa Ma come facciamo andare avanti Gianluca è scomparso giusto aspettiamo nel buio Ah non sta bene Ah ok sta qua Sta bene Ho parlato bene Ho parlato bene o ne avevano parlato male Non si può giudicare da una foto la condizione fisica e psicologica di una persona Soprattutto perché nessuno mi conosce nessuno al mio fianco nessuno di queste persone ha parlato con me nessuna persona mi ha visitato e nessuno sa le varie motivazioni del perché alla fine ho deciso Nessuno ha la cartella clinica di Sasha giustamente Queste sono state decisioni davvero delicate ragionate perché nessuno si opera nel tempo libero perché non c'ha nulla da fare Ma ora torniamo a noi auguratemi buona guarigione e torniamo a vedere No Dai Auguratemi buona guarigione Si dice così dai Si dice così no Eh dai Comunque no 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 perché non si chiede è come i regali Bravo Auguratemi buona guarigione No Che gli dice uno che sta andando a fare un'operazione Magari Io dici tu Dei tu iniziative Non penso che gli dici Speriamo sia una volta Spero vada così Così Speriamo sia la volta buona Il profilo La morte di Simone Santoro Mamma mia Non vedo l'ora Ho letto i commetti sotto quella clip di TikTok Quella del gas Vabbè fermate Mamma mia Ma fermate proprio Speriamo Tipo cazzo ci è mancato poco Mannaggia La cosa vergognosa No comunque Io vorrei una di queste persone no Mi sapevi Che desidera la mia morte No 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 Neanche Neanche Che provino ad uccidermi Io ora Io qua vi sfido Ok Siete una di queste persone che su internet commenta sulla mia morte Se me vedete passare per strada Provate proprio fisicamente ad uccidermi No Che cazzo De frasi sono Voglio un po' Un po' di brio nella mia vita Voglio vedere se ce la fate Che mi sentite da qua fuori ragazzi Perché mi domano Mi sentite per il collegamento dal giordino Non risponderò mai Proprio il via libera avete Fate quello che volete Inizio io Allora dai Puoi iniziare Marco Te puoi rimettere un attimo una posizione Chiunque può iniziare Chiunque può iniziare Chiunque può iniziare Così Con l'occhialetto No no Stretto Con l'occhialetto Un po' abbassato Così Vai Marco Non so cosa sia Dai se devo È vero Non guardi Devi far il capelletto Così Non so perché Ma hai ricordato L'occhiale è quello Sì 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 Come a me è capitato uno che mi ha detto Ma lo sai chiedato Ho beccato Armobba in chat Però mi aveva scritto Poi ho pensato Dovevo dire Sono proprio un coglione No E io ho fatto Beh però mica Mi aveva detto Cioè mi hai beccato Hai pensato Io lo volevo dire Allora mi potevi dire L'ho fatto quel giorno Non muo veni poi A scrivere in chat Te l'avrei voluto dire Ah l'ha pensato E te l'ha detto dopo In chat Eh no Dimmi lo su un po' Eh no Ma hai visto A questo punto Ma hai visto Pure questo Non è che pensate una cosa E poi la dite dopo Pavidi su TikTok Ditemela in faccia Che ho visto Te l'avrei voluto dire Ma lo potevi dire Ma hai visto Secondo me Potrebbe essere Un ottimo incentivo Per i biglietti del Cerbero Party a Bergamo Insultateci Di quelli che ci odiano O che vogliono Vederci morti Sì Pagate il biglietto E provateci Esatto Easy Free Free try C'hanno un tentativo Vabbè Uno Un tentativo Vi dico solo una cosa Ragazzi È scontato È come la gaccia Posso dire una cosa Per interrompere Questo flusso Ieri ho fatto Serata con quattro Necroni Vi dico solo questo È E quindi oggi C'ho un po' De male al fegato Capito È che non bevo da tanto C'è stato un compleanno E chi avete bevuto? Stavamo a un pub Stavamo Quindi immagino Dei cocktail Come Ma gli altri? Margaritas Gli altri? Quindi mo mi sono alzato Un attimo ragazzi Pure per non impuzionare Lo studio Perché dovevo lanciare Una scureggettina Finisco la sigletta E rientro Va bene Prego Prego Non si preoccupi Ci mancherebbe altro Che è successo in Turchia Meno 5 giorni l'intervento Oggi direi di andare all'acquario Lì abbiamo un pesce piadina Acquario sinceramente Del pesce piadina Ma fuori da quest'acquario Altri acquari Cibo No Spezio Qua si vede che c'è una cultura Per il tè Ah Vari tè Tipo Per tappare tipo Era figo quello Si vede che continuano a girare Vari tè Sì Io sono un fan dei tè No era figo Era proprio il figo Oddio Ma che è Che è sta roba Ma che c'entra con l'operazione Ma cosa sto vedendo Questo sembra Sapete cosa sembra Questo Dai momento cazzatina Fatemelo fa L'avevo presa anche per l'evocazione È pieno d'aria Roma Eccolo Sembra sta scena qui Il papa nero Sembra sta scena però Di un'altra religione Interessante Poi una certa Poi una certa Hanno iniziato a girare Velocissimi Che a tempo Una roba incredibile Minuto giro nell'operazione Che non c'entra un cazzo È uguale Giravano in cerchio Non hai visto il film Ignorante Guardalo Bagno e massaggio tradizionale Tra l'altro il posto che ho scelto È tipo di Massaggio tradizionale Cagaloglu Ecco Vabbè no Voglio sapere dove Vai Bagno e massaggio tradizionale Tra l'altro il posto Cagaloglu Eh questo Come si chiama il Oddio Cagaloglu Bagnoturco Ok proprio così In arabi Non mi viene Cagaloglu L'iglu Quindi in Turchia Un bagno è in bagnoturco Amami Amala Pazza intera Amala È una gioia infinita Che dura una vita Pazza intera Amala Non mi ricordavo la scala minimamente Di chi era quella canzone? Amami Amam pure si dice Amam Lo sapevo Lo sapevo Però regà io c'ho una curiosità Ma ogni bagno in Turchia È un bagnoturco? No No Però ci cagli gli iglu Stanno le ambasciate Il bagnoturco è tipo una sauna Ah quindi c'hanno tutta la sauna in bagno? Tutti Ammazza Curioso È tipo i giapponesi che c'hanno Il cesso che te sciacqua il culo? Sì Curioso Curioso Ma infatti anche secondo me Esiste solo l'inno di Bovia Ma scusate Questa qui era quella In cui canta pure Javier Zanetti Una cosa abominevole O era un'altra roba? Per capire Sì Mamma mia Che monnezzo Dopo la risentiamo In chiusura Questo che ho scelto È tipo di 300 anni fa Credo forse il più antico Mi succedono di fare tutte le cose Che si possono fare tradizionali Qua in Turchia Da Cagalogluhamam A Cagalogluhammam È un attimo comunque Ok adesso Mi sono chiuso Che sarebbe praticamente Il mio spogliatoio Dove però lascerò dentro Tutti i miei vestiti Solitamente si entra dentro Solo con l'asciugamano Completamente nudi Se vuoi da casa Ti puoi anche portare Però il tuo costume Purtroppo dentro È impossibile registrare Anche perché mi hai detto Che praticamente Stavano tutti nudi Ovviamente questo Mamma Si diventa Beh anche perché Col calore Ad Mamma Come cazzo fai? E si squagliamme tutte Squagliamme tutte cose Molto diciamo Utilizzate Dalle mafie Ah beh sì È vero Tipo i mafiosi russi Russi La Yakuza È vero È vero Sì sì Perché vedi integralmente I tatuaggi E ritorna al discorso I tatuaggi Con determinati significati Stanno tutti come la mamma Li hanno fatti Bravo Bravo Mare Tutti ignudi La miglior scena Di sempre All'interno di un bagno turco Presente nel film Vacanze di Natale In India Esatto Natale in India Sauna Poi passi altri Dici un Ti passano questi guanti Per esfoliare la pelle Insomma Per togliere tutto E vediamo un attimo Col massaggio Happy ending Vabbè Eh No Ho capito ma Tocca un attimo capire Oddio 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 Ho visto fregni Aspetta aspetta Metti 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 Ho visto un po' No no Ciao Ho visto un po' De movimento No no Era Una roba bianca Gelatinosa Quella colla Che usavi a scuola Alla sito No no È una cosa strana Come si chiamava quella colla Se intendi che usavo la sborra All'asilo Come colla Allora non la coccoina No la coccoina La coccoina No la vinavil La cum La viniv Era quella Per staccarsi La pelle finta Sì la vinavil Vabbè Anche quella La vinavil Che era la colletta Quella rossa Rossa e bianca La cumavil Era stupenda Tu facevi così Mettevi la vinavil Poi facevi così I foglietti Per incollare I foglietti Le mani Aspettavi E poi facevi Ma quella era Divertissima Non era l'utilizzo Era bellissimo Ma io non lo facevo Ho preso mille sgridate All'asilo Per sta cosa E pure alle medie Mi sa di No Alle medie Perché era autistico No te lo dico Alle alimentari Non proprio così Che c'è Stavo Leone Però mi è capitato Io stavo fuori Spregavo interi Io ci ho fatto i palloni Ci ho fatto Quelli con la carta Ah beh sì Con la carta sì 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 E invece la coccoina Era quella Col pennellino Ah sì Bianca e blu Perché era pure Mezza commestibile Che i bambini Non mi risulta Non lo so Da te si usava così Marco Da te Da te la coccoina Che ci faceva Era usanza Diciamo però Capitava che stava Mettevi più che in bocca Nel naso Era quella Ma forse era sporra La coccoina La coccoina Andava Andava Però Io l'ho basettita Sta cosa Ma che cazzo dite Non mi ricordo Se mettevi i pinarelli Nel naso Ma mamma La vedevo Sicure che magari Non sa più Adesso farai Ah Guarda Vediamo Era blu tipo Bianca Blu e bianca La vina Sì La coccoina Troppe volte Dai Ma come no Mai Ma che se Ma che colla Ma non l'avete mai vista Ma che vita avete fatto Ma veramente All'asilo Sì cazzo Voglia Ma da che epoca provieni Il pennellino Ti danno anche il pennellino Sì È incluso Pure di latta Le vuoi Anche il comodo L'acqua Moderna Questa è moderna Ah no Questa è stick Ok vabbè Mazza che bello La coccoina stick Ormai si mettono Ordinamola Ordinamola un attimo No ordina Prendi nel cento Metti quella che ce ne portano Un almeno Occhio che si vedono No ma quella col pennello Ma sti cazzi Da acquista ora Trenta coccoina No 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 Via quella col pennello Però Infatti quella L'abbiamo prendo Panico Ma sei sempre più bella Ciao 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 Non mangia il ciccio gamer Ovviamente la mamma È la mamma Sì L'abbiamo sentito mamma La mamma Come sta Come sta È la mamma È la mamma Oh non lo so Ho capito male Marra sta avendo un ictus Ma sei conosciuto adesso E lui ha ripreso il momento Ovunque Bellissimo No ha detto Sempre più bella Sempre più bella No no Sono conosciuto adesso Palesemente Sì sì Ma possiamo comprare Una poesia sto video Veramente Io lo incornicerei Vi devo dire Ti devo dire È la mamma È la mamma Come sta Come sta Io vorrei Della coccoina Eh però Vorrei sniffare Della coccoina Eh lo sai che era quella La cosa proprio De odorarla Ottimo odore Era quello Era l'odore Sembrava una cosa Non chimica Ecco A differenza Sembrava Occhio che se vede tutto Attenzione Un odore Diciamo Di piede Grazie però Buono Allora ne voglio 40 Ma forse Nasce tutto da lì Il mio amore Aggiunge al carrello Della coccoina Perché c'ho 33 Ah è vero Perché No no Leva 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 Una coccoina Ma che ci devi fare Così Per il gusto Devi provarla Ma ti pare Per lo studio Ci serve Della coccoina Molto utile Ci serve Della coccoina Secondo me sì Quando uno sta Con gli occhi chiusi Sai il master Quante cose può fare Con la coccoina Che piccola la bocca Tipo Sei morto Hai morti Gli fai Gli fai un giro De coccoina Carta aziendale Mille acquisti Ma anche no Non facciamo vedere Carta aziendale Ma anche no Non mettere mai In action No Abbiamo pure Una carta aziendale La coccoina Abbiamo 4 euro E dai 4 euro Donate Verrà tutto investito In coccoina Oh è una sab Oh è una sab Butta via 4 euro Per la coccoina Allora sì Sì In quel caso sì Non lo diciamo a tutti Insomma Che avremmo speso tutto In coccoina Vabbè Sarà Lo sponsor di Bergamo La coccoina In realtà Questa scenetta Serviva per introdurla Sì 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 È tutto finto Non ho mai usato Coccoina in vita mia Mai vista Andiamo avanti Va che qui parte Il trisom Caro Piacere mio Giorno dell'operazione Non è la madre È la madre che incontra Una volta la pischella Un momento Te l'ho detto Che sei conosciuto Adesso Pensavo fosse la madre Ma l'ho detto prima L'ho detto un minuto fa No è la madre di lui Che sta conoscendo Per la prima volta Lei È una cosa bellissima Che stanno facendo La sconvolgerti Ancora di più No perché l'ha detto Sei sempre più bella Che era la madre Quindi la conosce ovviamente Ma se fosse stata La madre Di una ragazza Madonna Che cazzo è successo Grazie per la coccoina Vai Vi conosciamo la coccoina Pischella in senso dispregiativo No pischella significa Ragazza è romano Presti più attenzione Oddio No Davide non ci scateni Pensavo fosse la madre Della ragazza Ma fa un rubio No Davide no Eh non abbiamo capito Che hai capito così Sembra un lutto ragazzi Sono l'unico felice Se non guardi Non sta succedendo Esatto Non sta succedendo Se chiudi gli occhi È buio Sto disegnando Che le zone Saranno operate Ah ok Iguagliato Oggi metà Mi fa senso Mi fa senso Che te fa senso Mi fa senso Cosa Mi fa senso I pennarelli Mi fa senso proprio Immaginare Che gli stanno Appiare le tracce Per poi aprirlo Chirurgicamente Mi fa un po' di prividire Non lo aprono Che è pure peggio Un ago che aspira Mamma mia E a che servono Tutte steline Una canola Mi fa senso Capito Immaginare La chirurgia A parte che è anche Da quello che ho capito Una liposchool Una liposcultura Quindi forse Vedi l'hanno fatto Anche sotto Al pettorale Forse sistemano Anche quella zona lì Può essere Tipo sel Anche una terza Da qua Per entrare Su E si fa Fulino Nell'ombelico Capito Gli fanno tutti Ma perché Ha infilato il dito Tutto dentro All'ombelico Siamo tipo Il chirurgo Il chirurgo È una cosa Medica Ti ha infilato Il chirurgo Mentre parla Ti ha infilato È una procedura Medica Guarda sta cosa Che te Te l'allegra Io non potrei mai Assiste neanche Che è un parto Qual era il film S-Man Dove Jim Carrey Sviene In un macello Dove che stavano Io svengo C'è quella scena là Irreperibile Casco per te Io svengo A me fanno senso Ste cose Ma il sangue Io solo Mentre gli facevano La cosa col pennarello Mi sono sentito Quei brividini Che se stavo in piatti Avrei fatto tipo Quindi avresti Paura Di un tatuaggio Per il lievo del sangue C'è paura Io ho la fobia Degli aghi Da quando ne ho Memoria E come fai con i prelievi Tipo non guardi Allora Sta cosa Ma l'ho pure raccontata Sta cosa l'ho superata Quando sono stato in ospedale In quel periodo Sono stato in ospedale Un mese E quindi me prelevavano Tipo 3-4 volte Al giorno il sangue Tipo dopo il terzo giorno Non c'avevo più la fobia del lago Però in generale È una cosa che mi fa sempre senso Capito Ok Poi vabbè Tipo se mi devo fare Il prelievo Sto là così Tipo quando sono data Per fare le cose del Coronavirus Traga non cazzo Ok Sui lati Destra Quella di sinistra Ci sono più grossi Mi sto vestendo per il ballo Di fine anno Anche le calze Da ballo Ciao battozza Stiamo anche in periodo Fashion week in Italia Quindi Grazie 93 Bellissimo Mi hanno esplicitamente Vietato di mangiare Tipo da ieri sera A mezzanotte Sto morendo di fame Non potrò mangiare Per tutto il giorno Quindi Sono più preoccupato Del fatto che io non posso mangiare Rispetto alle 4 ore di operazione Che mi aspettano Ma Tutto bene direi Ciao mamma Forse è l'ultima volta Che ci salutiamo Guardate quanto sono carino Ci vediamo fra Per evitare di cagarsi addosso Durante l'anestesia Suppongo Che è? Non mangiare Sono andato a fare sub Anche per digestione E cose varie Che potrebbero creare problemi Buongiorno amici Qualsiasi cosa ho detto Quando mi sono svegliato Ad adesso Non me lo ricordo Sto affattissimo Io mi ricordo L'anestesia Dopo quando mi sono svegliato È stata la mia prima Il mio primo trip Sto affattissimo Mamma mia A 15 anni Mamma mia Una cosa assurda I corridoi facevano Si allungavano all'infinito Con mia madre Stavo Assurdo Io pure Quando mi sono aperto la testa Era troppo bello Infatti ho detto Tipo datemene ancora È stupendo E anche per la gastroscopia Per la ricerca Della cilieghia Per cosa Simo? Intanto vabbè L'ho già detto Mi sono operato al pene Mi hanno rifatto il pene Per la Fimo Ma c'è un cazzo Che è una proboscita Esatto Gli ho detto Fatemelo come quello di Ciccio Gamer E da quel giorno Simone Non ebbe più un pene Di dimensioni Rimpicciolimento Da diaverità Era troppo grosso Ho fatto un'operazione Di rimpicciolimento Perché davo Già scopavo troppo A 15 anni E facevo del male C'hai 40 centimetri De sleppa Eh sì Poi esagerato Io le scopavo E le soffocavo Era un problema E arrivava fino Alla glottide Dove Acquisto I biglietti per Bergamo A giorni Troppiamo tutto Ragazzi Non vi preoccupate Instagram Community Di Youtube Faremo una live Dove dropperemo In diretta Cioè tu glielo mettevi Nella Tu glielo mettevi Nella vagina Poi c'è Grazie È una certa Non ce la fai più Passando Per lì Un po' di ore Iniziai A mangiare A camminare Una velocità E' un po' di fili Che escono da qua Da qua Da dietro Sto morendo di fame Oh ecco È arrivata la zuppa Raga Sono riuscito Anche a Oh è quella La zuppa Che mi bevo ogni sera Sembra buona Però vabbè Quando non mani Da 12 ore E' buono Tutto Solicamente Pure in sasso Tutti i figli attaccati Si sta per realizzare Il mio primo sogno Ho i crampi allo stomaco Non so se per l'operazione O perché ho fame Potete chiamare Mi gusta di pifo Ora Devo provare a camminare All'arcatedere Danna mia Via 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 Vediamo Vediamo Dai Ultime chiacchiere Vai Sette giorni dopo Dopo l'intervento Come potete vedere Già ho un visino Meno pallido E un pochettino Più sorridente In questo momento Riesco anche a camminare Ovviamente Prima di riprendere l'aereo Mi è stata fatta Un'ultima visita Di controllo Dal chirurgo Mi sono anche molto Sentito a cara Ma che foto è Il chirurgo Tutti così raga Che squali State arrivà E' l'ho Crocian Ragazzi ci vediamo Domani alle 15 Comunque Devo dire Video impeccabile Di anima Sono contento Però Venerdì di spacca Troccherò il culo stesso Domani Lupus Sarà una battaglia Ragazzi Sarà una vera E propria battaglia Dal sondaggio Che ho fatto su Instagram Sono riuscito A prelevare Ben Due elementi Un elemento New entry E un altro Che non viene Da un po' di tempo Poi Vedrete E tornerà Anche Valeria Con Dexter Mi mancavano Mi mancavano Eh sì Che hanno avuto Impegni vari Sono stati pure Poco bene Eccetera Ritorneranno Questo mercoledì Sarà una bella guerra Dopo domani sera Lupus Dai dai A domani Alle 15 Ciao 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 Che scuoli State arrivà Ello Croce Il sogno nero-azzurro Si avvera Nel cuore nero-azzurro Che spera Che canta col cuore Che gioca col cuore Che vive la vita